Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo parlando della scossa di terremoto che è stata registrata con Epicentro ad Umbertide poco dopo le 4 e che è stata avvertita distintamente anche nella città di Arezzo. La cronaca nel servizio di Chiara Sadotti. Io ero allo stadio. Cosa ha sentito? Trimare il sedile dello stadio. È stata avvertita chiaramente anche ad Arezzo come in molte altre parti del centro d'Italia la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 con Epicentro ad Umbertide. Si vede dal plot della mappa che comunque una vasta parte dell'Italia centrale ha risentito e ha compilato il questionario. La prima scossa nella val Tiberina Umbra la più forte alle 16.05. Come Epicentro siamo nella zona della falla alge Tiberina. Come evento ci sta nella dinamica di quella che uno si aspetta su questo tipo di falle. La magnitudo del sisma è stata 4.4 alla profondità di 10 chilometri. La scossa è stata avvertita nitidamente anche nella val Tiberina Toscana, in Valdichiana e ad Arezzo. È quindi un terremoto che si sente fino a un raggio di più di 100 chilometri. Lo stesso terremoto alle ollie a 250 chilometri profondità non sente probabilmente nessuno. E quindi la superficialità è in combinazione con la magnitudo. Alla prima scossa ha fatto seguito un intenso sciame sismico. Sono già presenti altre scosse che sono state registrate dalla sala. Sono più di 10 dalle 16.05 al momento attuale. Di magnitudo inferiore o uguale a 2. Profondità supergiù confrontabile a quella della scossa che abbiamo sentito tutti. Per ora non si registrano danni ma i controlli del Vigili del Fuoco sono ancora in corso e in volo anche l'elicottero Drago dei pompieri Aretini per una ricognizione. Sono 13 le aziende del territorio Aretino sottoposte ai controlli da parte dei carabinieri nell'operazione Osiride. Secondo gli inquirenti le aziende avrebbero immesso nel mercato cipato di legno fake, cioè appunto spacciato per produzione di qualità quando non lo era. Il settore sotto la lente di ingrandimento è quello delle biomasse vegetali destinate ad impieghi energetici. Le aziende sottoposte a sequestro preventivo operano nel settore delle utilizzazioni forestali, della manutenzione del verde e dei servizi di autotrasporto. Secondo gli inquirenti si sarebbe concretizzata una maxi gestione illecita di rifiuti speciali e una frode finalizzata all'ottenimento di ingiusti profitti in danno anche dell'ambiente. Sequestrati durante l'operazione anche 50 veicoli professionali. Non andrà a processo il medico che ha deciso per l'amputazione del pene per un settantenne residente nella Valtiberina Aretina. Oggi l'udienza di fronte al GUP è appunto la decisione. Non andrà a processo il medico urologo che nel 2018 all'ospedale di Arezzo asportò una porzione del pene ad un 69enne residente in Valtiberina per poi scoprire successivamente che il tumore che si sospettava non c'era. Sono state accolte le nostre richieste quindi si chiude qui. Una vicenda approdata questa mattina nell'aula del GUP del Tribunale di Arezzo Claudio Lara. Il giudice ha dichiarato il non luogo a procedere per tardività della querela avvenuta nel 2021 rispetto all'intervento chirurgico del 2018 quindi ben oltre tre mesi previsti dal codice. Riteniamo che non vi erano assolutamente i presupposti per esercitare l'azione in giudizio per quello che veniva contestato in quanto abbiamo sempre ritenuto la condotta rispettosa di quelle che erano le linee guida che dovevano essere seguite nel caso concreto. Il reato ipotizzato per il medico era quello di lesioni gravissime. Al paziente era stato diagnosticato un cancro al pene da qui la decisione di intervenire chirurgicamente. Il tumore però non c'era come rilevato dagli esami istologici emerse che era affetto da sifilide. Per il giudice però la querela è arrivata tardivamente. Aspettiamo e vediamo le motivazioni della sentenza. Andrà invece avanti il procedimento civile. In corso una causa di risarcimento del danno. L'uomo chiede circa 400 mila euro. La prossima udienza è in programma per settembre. 55enne scippata in pieno centro a Montevarchi. L'episodio è accaduto alle 8 del mattino. La donna stava raggiungendo l'auto in un parcheggio sul posto. Sono intervenuti i carabinieri. La donna che durante il borseggio era caduta a terra non ha subito lesioni. Le indagini hanno subito però consentito di risalire al presunto autore dello scippo che è stato denunciato. Adesso invece torniamo a parlare dell'8 marzo. Ieri tante le iniziative che hanno interessato il territorio rettino. Tra queste un flash mob della Croce Rossa italiana in Piazza San Jacopo ad Arezzo. Ieri la Croce Rossa italiana, almeno al tempo dei nostri nonni, era un tutt'uno con la figura delle cosiddette crocerossine, vere e proprie icone dell'abnegazione e di una sorta di aristocrazia del sacrificio. Il corpo dell'infermiere volontaria è il frutto di una forte volontà di emancipazione e partecipazione delle italiane. Un flash mob per valorizzare il ruolo della donna all'interno dell'associazione Croce Rossa. Noi siamo sì delle crocerossine, ma siamo anche tutte le donne della Croce Rossa, che apparteniamo al gruppo dell'emergenza, al gruppo del sociale e per ultimo il corpo militare che sono le infermiere volontarie. Oggi possiamo raccontare storie esemplari di donne e ruoli chiave della nostra organizzazione. Tuttavia, accanto a queste bellissime testimonianze, sono ancora tanti gli ambiti della società in cui la vulnerabilità è donna e passa per i luoghi comuni da smantelare, per i diritti negati, fino ad arrivare alle abusi e alle violenze che la Croce Rossa contrasta quotidianamente. Le volontarie e retine sono così scese in piazza Sai Jacopo nella giornata internazionale dei diritti della donna. Per festeggiare un diritto che si spera che sia un diritto internazionale e non sia solo oggi, ma per tutto l'anno. Il solo domani possibile passa per una parità di genere reale in ogni campo. Il solo futuro auspicabile è quello in cui non siano necessarie giornate ad attestare quello che avrebbe dovuto essere da sempre. Un coro pop invece, sempre in occasione dell'8 marzo, giornata internazionale dei diritti della donna al Teatro Mecenate di Arezzo. Ogni cosa bella, quando viene vissuta con molta intensità, non muore mai completamente. Anzi, fa arricchire il nostro entusiasmo per la vita, senza toglierla. Il coro pop sul palco del Teatro Mecenate di Arezzo con il concerto Il Nostro Canto. Il coro pop è un'esperienza formativa in 12 incontri gratuiti, sottolineo, organizzata dalla Scuola di Musica alle Sette Note e in collaborazione con la sezione SociCoop Unicop Firenze, la collaborazione di Viscantus Associazione e altri due esperti, Roberto Vichi alle percussioni e Marco Lazzari al pianoforte. È stata un'esperienza straordinaria dedicata fin dall'inizio col pensiero alla festa della donna. Sul palco, musiche di varie culture del mondo come strumenti di integrazione e di cura. Culture diverse, canti in più lingue, dedicati all'antidiscriminazione, l'antiprivazione dei diritti umani e quindi a favore, sostegno dello spirito comune, dell'energia che ci lega tutti quanti all'appartenenza a questa terra e quindi abbiamo cantato dagli indiani d'America a Basevi, insomma di tutto. Nuovi avvistamenti di lupi in zona Rigutino e Frassinetto a segnalarli è il comitato emergenza lupo, in particolar modo viene raccontata la storia di Elena Gallorini, una residente appunto della zona, la sua famiglia, scrive il comitato, alleva galline dal 1979 per più di 40 anni. Questi animali hanno fatto la stessa cosa, ovvero venivano messe in libertà al mattino per poi tornare ad essere rinchiuse quando cominciava a calare il sole. C'è stato però una predazione appunto da parte dei lupi, soltanto una gallina è diciamo rimasta superstite e insomma viene appunto lanciato di nuovo questo allarme da parte proprio del comitato e soprattutto la grande preoccupazione che c'è tra la popolazione residente in queste zone per appunto la sicurezza dei propri animali domestici. Parliamo adesso invece della riforma Cartabia, una riforma insomma che sta facendo molto discutere proprio sul fronte in particolare al modo della formazione in questo caso di mediatori e arbitri iscritti negli speciali elenchi della Camera di Commercio di Arezzo, l'ente sta portando avanti dei corsi di formazione. Presidente questa riforma insomma è lo studio di tutti gli ordini professionali, come contribuisce con la Camera di Commercio affinché insomma sia conosciuta ancora di più? Beh innanzitutto organizza come in questo caso dei corsi di aggiornamento, stasera appunto parte questo corso di aggiornamento sulla mediazione per adeguare appunto questo mondo che ovviamente è in continua evoluzione in particolare oggi con l'adozione appunto delle norme previste nella riforma Cartabia e quindi cerca di adeguare anche la formazione dei professionisti tra l'altro molto numerosi presenti a questo corso di aggiornamento alle nuove normative. ovviamente ci sono campi che vengono allargati e di intervento di questa possibilità di questa giurisdizione ovviamente alternativa e che quindi dovrebbe anche, a quale ci sentiamo anche così impegnati a contribuire, un alleggerimento diciamo di quello che è il carico della giurisdizione in ordinaria. Quali sono le materie che la riforma Cartabia introduce, nuove per quello che riguarda ovviamente l'attività di mediazione? Per quanto riguarda la mediazione obbligatoria quindi quella che è condizioni di procedibilità poi per attivare un processo di fronte agli organi di giustizia abbiamo con particolare riferimento al nostro mondo economico tutto il mondo delle società di persone per esempio che nelle controversie sia tra le società che anche verso terzi dovranno d'ora in avanti attivare proprio un tentativo di conciliazione prima di risolvere la questione eventualmente di fronte ai giudici. Ma anche nell'ambito dei contratti di subfornitura che interessano anche questi molto il nostro distretto, anche qui sarà necessario rivolgersi al mediatore e quindi a un organismo di conciliazione come quello che è in Camera di Commercio e che può vantare dei mediatori sempre più aggiornati perché noi appunto li facciamo iscrivere all'elenco ma poi li accompagniamo anche verso percorsi di aggiornamento sempre più professionalizzanti perché puntiamo molto sulla risoluzione alternativa delle controversie. Torniamo a parlare del disagio giovanile, un tema davvero molto delicato sul quale abbiamo posto l'accento soprattutto in seguito alla vicenda della ragazzina di 11 anni, lo ricorderete picchiata in pieno centro ad Arezzo nella zona della ex Cadorna. C'è un finanziamento importante ed esattamente 50 mila euro destinati dal comune di Arezzo ed in particolar modo dall'assessorato alle politiche sociali e giovanili in favore dell'associazione Dog Operatori di Strada che oltre a continuare nella propria attività di formazione e informazione tra i ragazzi nel 2023 si impegnerà anche nel contrasto alla grave povertà ed emergenza sociale. E proprio questa associazione che vede come suo presidente Roberto Norelli rappresenterà l'amministrazione comunale in un importante incontro che è in calendario per il prossimo sabato 11 marzo alle 17 ospitato dalla Casa dell'Energia di Arezzo organizzato da tutte le associazioni, lo ricorderete, il comitato Giulemani dalle Menze e Futuro Aretino che avevano organizzato anche la manifestazione di solidarietà proprio nella zona della ex Cadorna ad una settimana dall'aggressione subita appunto dalla bimba di 11 anni. Un incontro aperto alla cittadinanza che vedrà la nostra emittente tra l'altro proprio in prima linea riprendere appunto integralmente questo incontro che avrà ovviamente come argomento principalmente il disagio giovanile ma torneremo anche a parlare di quanto è successo appunto in Piazza Fanfani e poi sarà trasmesso nella nostra programmazione. Siamo alla pagina della cultura iniziamo con questo primo spettacolo ovvero lo spettacolo delle signorine al Teatro Petrarca di Arezzo che ha riscosso davvero un grande successo. Un omaggio ad alcuni tra i più importanti cantatori della musica italiana in un'atmosfera curata con eleganza in ogni dettaglio con un tocco di vintage. Sul palco del Teatro Petrarca il trio Le Signorine composto da Claudia Cecchini, Lucia Agostino e Benedetta Mistri che hanno presentato un caffè con i cantautori. Si tratta di uno degli appuntamenti per celebrare la giornata internazionale dei diritti della donna che rientra nel programma delle iniziative organizzato dall'assessorato alle pari opportunità e dalla fondazione Guido D'Arezzo. Noi abbiamo un bel pezzo dello spettacolo attraverso cui si raccontano un po' i cambiamenti che hanno attraversato un po' anche lo stile e il modo di stare nella società della donna. Quindi noi scherzando parliamo anche della moda però poi la moda di fatto è espressione un po' di quello che la donna vive. Quindi partiamo dagli anni 50 per cui la donna era un po' l'angelo del focolare per spostarsi agli anni 60 dove arrivano le minigonne. Quindi la donna che comincia ad alzare la testa per poi arrivare agli anni 80 e agli anni 2000 con tutte le varie lotte anche di emancipazione e di autonomia che poi hanno avuto le donne. In questo concerto abbiamo fatto questa scelta, abbiamo scelto di reinterpretare tutti i pezzi intramontabili dei cantautori soltanto uomini e questo possiamo dire che noi siamo tre donne e quindi? E quindi sì, in realtà è stata un'idea vincente questa perché abbiamo dato una nuova veste a dei brani diciamo a cui il pubblico e chi ascolta è abituato a sentire una voce di un uomo, un'interpretazione di un uomo e invece le abbiamo dato una nuova veste e una nuova freschezza cantandola noi che siamo tre donne. Tutta femminile. Grande successo anche per la tappa a retina per colei che viene definita la rock star della fisica Gabriella Grayson. Non mi sento troppo bene, una lezio magistralis, la chiamano così, una lezio magistralis dopo una sbornia magistralis, anche se qui di magistralis ricordo solo il nome della birra che ho bevuto ieri, se Dio esiste ha la voce bionda, morbida e piena come quella della birra. Io racconto storie, racconto storie che hanno come protagonista la fisica quantistica, mi hanno chiamato la rock star della fisica e mi piace molto questa definizione. Gabriella Grayson, fisica, scrittrice, attrice, divulgatrice scientifica, è stata definita la rock star della fisica. Sul palco del teatro Pietro Aretino ha portato la prima del suo spettacolo Ogni cosa è collegata a tratto dall'omonimo libro. A lui interessava conoscere la fisica quantistica, allora io gliela spiegavo, lui voleva mettere un piede nella scienza per dare valore alle sue teorie, quindi mi stava vicino, mi stava accanto, va bene, ero d'accordo, ero d'accordo. Dopo due anni di incontri assidui siamo passate alle lettere. Questo incontro strepitoso che c'è stato il secolo scorso tra Wolfgang Pauli, tra i creatori della fisica quantistica premio Nobel e Jung, Carl Gustav Jung, il grande psicanalista, sono diventati amici, tant'è che non lo pagava Pauli a Jung perché in cambio Jung voleva sapere la fisica quantistica, quindi uno psicanalizzava l'altro, psicanalizzava l'altro e l'altro gli spiegava la fisica quantistica, la loro unione, la loro commissione ha fatto sì che nascesse una base fondante per creare la grande teoria unificatrice che tiene insieme tutto, fisica quantistica, sincronicità, mente, amore e tutto il resto. Pauli però l'ha solo accennata e io l'ho conclusa, ho portato avanti il suo lavoro, nessuno l'aveva mai fatto, ci ho pensato io. E siamo allo sport, sono già in tanti coloro che vorranno seguire l'Arezzo nella trasferta di domenica prossima a Livorno, la curva a Minghelli ovviamente ci metterà del suo, l'entusiasmo è palpabile e la voglia di esserci al picchi cresce giorno dopo giorno, tanto che sono stati reperiti altri pullman proprio per tentare di non lasciare indietro nessuno al momento ci sono ancora alcuni posti liberi e gli organizzatori rappresentanti dei gruppi appunto organizzati invitano anche a rivolgersi a loro attraverso i social. E infine chiudiamo parlando invece di podismo e atletica perché il prossimo fine settimana è davvero un tour de force per gli atleti dell'Unione Polisportiva Policiano, gli atleti saranno infatti di scena proprio domani venerdì 10 marzo ad Ancona i campionati italiani indoor di atletica leggera nella distanza dei 3.000 metri con Valentina Mattesini, Emanuele Graziani e Malvin Metusci. Sabato 11 marzo invece a Gubbio si disputeranno i campionati italiani di staffette cross e domenica ancora un doppio impegno per la squadra assoluta maschile e quella femminile impegnate nei campionati di società assoluti di cross sempre a Gubbio. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio con i nostri programmi. Grazie per l'attenzione e arrivederci.